Importante operazione congiunta di carabinieri e polizia a Reggio Calabria, che ha portato in carcere 16 persone, una agli arresti domiciliari e una con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con l'accusa di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, detenzione illegale di armi, intestazione e fittizia di beni. Oltre ai destinatari dei provvedimenti cautelari, nei due procedimenti penali che hanno portato agli arresti di oggi, risultano interrogate complessivamente 40 persone. L'operazione, che gli inquirenti hanno chiamato in codice Gallicò, è scattata all'alba di questa mattina, quando sono entrati in azione gli uomini della Polizia di Stato e del Comando Provinciale dei Carabinieri e del Capologo dello Stretto, per mettere fine all'egemonia del sodalizio che mirava il controllo delle attività commerciali, dai supermercati ai centri scommessi al mercato del pane, con un'imposizione da parte della Cosca a chi doveva vendere il pane di rifornirsi di farina da determinati soggetti. Questa indagine ha fatto luce anche sull'omicidio di Francesco Scatalano, avvenuto il 14 febbraio del 2019 a Gallico, avvenuto esattamente un anno dopo quello di Pasquale Chindemi, ucciso lo stesso giorno del 2018 e per questo chiamati omicidi di San Valentino, legati entrambi alle dinamiche per stabilire chi doveva comandare a Gallico. Sono anche state messe in luce le dinamiche che hanno portato a versare, per così dire, ai detenuti amici dei veri e propri stipendi, per garantire il loro mantenimento e per sostenere le spese legali. Inoltre, le indagini hanno dimostrato come il clan avesse pianificato l'estorsione dal carcere di uno dei suoi maggiori esponenti, progetto che però poi non è andato a buon fine. A seguito degli arresti, il giudice per l'indagine preliminare ha disposto anche il sequestro preventivo di quattro società con sede a Reggio Calabria, formalmente intestate a terzi, ma effettivamente sotto il controllo degli indagati.